Di Francesca Ghiribelli, una acrezza nella neve. Una docile lanterna mi saluta da lontano. Quanta nostalgia per quell'affettuoso uomo barbuto, travestito di panna e ciliegia, che aspettavo alla finestra, mentre tutta la notte per lui era ancora in festa. Quante candele addormentate nella quiete giocosa di quella carta vivace e colorata, mentre sul tavolo lasciavo per quell'uomo stanco e affaticato un pacchetto di goloso cioccolato. Quanti sorrisi pieni di quella curiosa credenza che la fantasia non fosse mai abbastanza. Sbadigli assonnati che la mattina scartavano con ansia la mitica sorpresa di ciò che avevo richiesto con preziosa attesa. Allora la felicità rubava un bacio a mamma e papà, mentre gli abbracci della giornata ci portano ancora intorno ad una tavola apparecchiata. La calda atmosfera di un cammino che ci ricorda il birichino passo di un bambino. Tante volte ho provato la stessa gioia di un cielo in attesa dell'estate e adesso anche se c'è l'antica nostalgia di quella dolce e tenera magia posso starmene sempre qui a ricordare quella speciale ed unica atmosfera del Natale. Ogni anno però la sua festa di nuovo arriva ed una voglia sbarazzina accende la mia anima ancora un po' bambina nei ricordi posso ritrovare il caro ritornare di Babbo Natale mentre nel presente circondo di meraviglioso tepore la vera famiglia che mi ha donato il suo amore. Così alzo lo sguardo verso la stella più bella e spero a chi è meno fortunato di me possa arrivare nella neve una carezza mandata da un angelo del cielo con la speranza per un domani più generoso e sereno.